Ciao a tutti ragazzi, io sono Locomotiva di Esterni Interni, che è un programma di radiofonica della Web Radio, come sapete, e anche oggi siamo in interna, quindi siamo qui perché oggi è la giornata multiettrica, è un progetto che va avanti da anni nel quale la musica è da protagonista, e proprio parliamo di musica oggi, perché abbiamo una delle band che suonerà live oggi, i Tribun Arts, e a parlarci per primo sarà il nostro Ludovico, ciao! Salve a tutti, noi siamo la Tribun Arts, siamo un gruppo folk, siamo nati generalmente quattro anni fa, c'erano già forse in partenza qualche idea tra qualche membro del gruppo di formare, di fare questo genere di musica, quindi abbiamo detto perché no? Perché il folk? Beh, diciamo che il folk ci accomunava tutti a livello di gusti, e tutta quanta la parte legata anche al cantautorato italiano si è sempre appoggiata sul folk dagli anni 60 ad oggi, e nel folk possiamo dire che c'è molta importanza anche del testo. Quindi, testi che scrivete voi? Allora, inizialmente siamo partiti come una cover band in verità, come tutti, come sì, siamo partiti, solo quest'anno dopo la terza estate che suenevamo cover abbiamo detto beh, non possiamo andare avanti così, vogliamo provare a fare di più. Allora, come mai Tribun Arts? Tribun Arts, Tribun Arts appunto perché il folk è un genere che si poggia molto sulle tradizioni, e... Il latino? La Tribun Arts, i terni si chiamava appunto Interamnian Arts, quindi ci sapeva giusto comunque da tradizione appoggiarci anche al nostro territorio. Quindi ricordiamo un gruppo interamente ternano? Sì, sì, c'è una nuova componente del gruppo interna. Allora, come si chiama? Isabella Lozzi. E dove sei? Io sono di Montefiascone in provincia di Viterbo. E come vi siete conosciuti? Come è nata questa collaborazione? Facciamo la stessa scuola, non tutti, due persone di noi, tre persone in realtà, e abbiamo cominciato con le prove in un inverno, abbiamo messo sui primi pezzi e visto che comunque in Umbria c'è un'importante tradizione folk, siamo riusciti subito a fare i primi live, ecco, e questo sicuramente ci ha aiutato. Allora, a proposito di live, avete qualche altro evento in programma, oltre a oggi, 14 maggio, giornata multietnica? Sì, adesso sta partendo, tra virgolette, il nostro primo tour, nel senso che, come dicevamo, siamo riusciti a passare, a far uscire il nostro primo EP. Ricordiamo, il titolo è? Il titolo è Il Nido. Il Nido, andate, comprate Il Nido, guardate, eccolo qua. E quindi ci sarà questo tour, chiamiamolo, che si chiama Fuori dal Nido, e avremo serate già da fine maggio, adesso mi ricordo, tipo, a Farnetta, San Bucetole, San Bucetole, comunque abbiamo la nostra pagina Facebook, se vi interessa. Quindi seguiamo i Tribunars, adesso si presenteranno uno per uno e ci diranno qual è lo strumento che suonano, perché questo, il folk, il cantatorato, è molti strumenti e molti armonia, insomma più voci, vi consiglio di ascoltarli, loro sono? Ludovico, chitarra e voce. Daniele, basso, Federico, chitarra e cori, Isabella, Flaudi e cori, Marco, batteria, Paolo, percussioni e cori. E allora con questo è tutto, ringraziamo i nostri cari amici Tribunars, vi invitiamo ad ascoltare l'LP Il Nido, fidatevi, merita, se l'anno prossimo verso maggio passate da Terni, la giornata multilettrica vi aspetta come ogni anno, graziamo liberamente per questa opportunità e da Terni, Siviera, qui è tutto. Ciao ragazzi!